Scuderia piloti per passione, la seconda ragazza a prendere il via, è una under 23, mentre si prepara ora Alfredo Narciso con la sua Peugeot 205, siamo nella classe 1.4. Scuderia piloti per passione, la seconda ragazza a prendere il via, è una parte e la seconda ragazza, la seconda ragazza a prendere il via, la seconda ragazza a prendere il via, è una parte e la seconda ragazza, la seconda ragazza a prendere il via, la seconda ragazza a prendere il via, è una parte di valutinio, sono nella classe 1.4. Cerbano 2.45.80, mentre pronto con il numero 52 Alfredo Narciso, siamo nella classe 1.4. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.